Si chiama Icons, icone la mostra fotografica di Steve McCurry che verrà ospitata al Palazzo Gil di Campobasso dal 26 gennaio al 28 aprile prossimi. Torna in Molise uno dei maestri più acclamati al mondo, fotografo resocelebre da centinaia di scatti sui quali svetta per notorietà l'immagine di Sharbat Gula, la ragazza afghana dagli occhi verdi, protagonista di una delle copertine più riuscite della rivista National Geography. Quello di McCurry in Molise è un gradito ritorno, seppure questa volta rappresentato dalle sue sole fotografie. Il maestro era stato infatti personalmente in Molise lo scorso settembre, ospite d'onore per la serata conclusiva di Poietica, l'eccellente rassegna affidata alla direzione artistica di Valentino Campo, una sorta di genio della lampada, capace di cacciare cose sempre più belle dal lume. Dietro Poietica, dietro alla mostra in arrivo e dietro tutte le iniziative messe in campo in ambito culturale negli ultimi tempi, c'è la mano di Antonella Presutti, presidente della fondazione, che abbiamo sentito proprio sulla mostra in apertura. È un momento molto importante per tutta la regione, ma credo per questo paese in generale, perché la portata di questa mostra è nazionale ed internazionale. Infatti il nostro obiettivo è quello di ampliare il più possibile l'utenza, coloro che verranno a vedere questa mostra, ma soprattutto il nostro obiettivo è quello di raccontare attraverso questa mostra il nostro territorio. Cioè che la mostra diventi anche un passaggio fondante, fondamentale, per conoscere la nostra regione, per entrare nei meccanismi, in quelle che sono le tradizioni, per esempio, che soprattutto saranno intercettate dal periodo della mostra stessa e per comprendere queste bellezze del nostro territorio e veicolarle in un ambito molto più ampio. L'idea generale alla quale la fondazione sta lavorando è quella di proiettare le proprie attività sul piano nazionale ed internazionale, oltre agli steccati strettamente regionali. L'obiettivo è questo, decisamente questo, l'abbiamo detto più volte, portare il Molise fuori dal Molise e il mondo in Molise. E soprattutto Poietica e le grandi mostre vanno decisamente in questa direzione. Naturalmente l'attenzione è al territorio e anche ai grandi artisti del nostro territorio. Si è appena chiusa la mostra di Amedeo Trivisonno, tra le altre cose una mostra molto bella, molto pensata, molto didattica, perché naturalmente la finalità è anche questa. Però nello stesso tempo davvero dare un respiro internazionale e nello stesso tempo anche sottolineare come questa regione ha le professionalità, ha le qualità per potersi aprire al mondo e portare il mondo qui. La cultura quindi come volano per la crescita e lo sviluppo del Molise e fare in modo che chi viene in regione per mostre ed eventi non solo possa conoscere un territorio per molti aspetti ancora sconosciuto ai grossi flussi turistici, ma vi possa restare favorendo il circuito della ricettività, quello enogastronomico e l'indotto ad essi collegato. Non è vero che con la cultura non si mangia, al contrario con la cultura possono essere in tanti ad avere grosse opportunità di lavoro e benessere.